Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono Smith Terry ed eccoci qui, benvenuti a tutti di Man vs Avengers e viviamo qui con Kamala, il nostro nuovo eroina, che cerca poi di scoprire la verità su quello che è accaduto 5 anni fa alle idee, un giorno in cui ci vuole una esplosione, un belamento di gas di un materiale molto strano che ha provocato una formazione di inumani per molte persone e che ha portato gli Avengers a essere visti come una minaccia e quindi a essere a scappare. Bene, vediamo un po' cosa scoprirà ora la nostra Kamala, per farlo stanno avanti, quindi bando alle ciance e chiamiamo inizio Let's go! Occhio, non voglio andare a finire nella zona dell'eroe, però mi sa, viene di qua Occhio, il dottor Tartor, risulta deve essere lui l'assassino di Capitano Rogers, maledetto, si vergogni Uuuuh, oddio mio Direi E scendi giù, scendi dalle stelle Ok, nuovo obiettivo Tornato per entrare a Heroes Park Va bene, adesso dobbiamo scendere la forza giù Che succede Uuuuh Non sembrava la forza, vado io Centinaia di superfisi sono stati infettati da un'abilità pericolode e innaturale Rilevata presenza di un inumano nei paraggi Ai sensi del protocollo inumani, sezione 3, paragrafo 8.2 Vi invitiamo a restare fermi mentre completiamo la scansione Cosa? C'è un avversario qui? Fa tutto bene Vediamo che cerco gli inumani come fosse una caccia da strega così Penso lo so passare Tranquillo Certo l'ho tolta, non ce la conta giusto Come ho visto nel video E come lui si sia vantaggiato in questa situazione Diciamo che non possiamo fidarci tanto Ok E' un atto d'ora che ci beccano e ci non ci ha visti Ok Eh infatti E allora Là sta il coso e il museo Oddio Salta Questa è molto hanciata mi sembra Uuuuh Salta, salta, salta Cavana Mamma mia Però sono arrivati tutto questo Non è stato aggraziato Ma ce l'ho fatta Ok Raggiungiamo la statua di capo Ciao Iris Park Quanto tempo Da bambina venivo sempre qui con i miei genitori L'AIM sta demolendo tutto per costruire la sua nuova clinica Che spreco Tutti inumani Tutti scomparsi È questo che preoccupa davvero Abu Lì avanti dovrebbe esserci un buon punto per tenere d'occhio la statua Ti serve una mano bestione Cap Cap Ne è passato di tempo Ah Questa è una musica Ehi, ehi Dove vai? Casa Davvero? Resta con noi Ehi, vuoi bere? No, grazie Cosa? Sei qui per pregare? Ho solo preso una scorciatoia, tutto qui Certo Coraggio, vattene da lì Ok Bell'accendino Quindi vuoi che tornino, eh? Così uccideranno ancora Cosa? No No? No? No Quindi cosa? Ti piacciono gli inumani? Dai ragazzi Stupidi simpatizzanti Fermi! Ehi, va tutto bene? Candelina è un'amichetta Zack Guarda la borsa Cosa c'è? Che problema avete? Voglio solo andare a casa, ok? Ma che cosa fai? Il mio fratellino si trovava all'A-Day Aveva scritto delle idiozie su Captain America Cap non c'entra niente E invece c'entra e come? È diventato un mostro viola E poi l'hanno portato via Sta calmo Zack, basta E poi è morto Basta È morto Zack È morto Indietro È una di loro Non fatemi toccare Scappiamo Ehi Tutto ok? Forza, andiamo via Non mi toccare Cosa? Sei Tiny Dancer, no? Che cosa devo fare? Di che cosa parli? Ti prego, lasciami andare Ok, siamo messi nei guai Molto bene E infatti Allora, cominciamo Ok Adesso là sono lì bloccate Due E due sono lì E andiamo di qua Vediamo come Ma ci serve anche paura Anche quando un inumano Ti salva C'è paura Ovviamente Queste persone in più Sono molte persone Che hanno sofferto Oh vabbè Che spiga Che spiga che ho io E c'è una restata Comunque Vediamo come La città Le persone stiano Molto traumatizzate Anche Se credono gli eroi Sono un poco Rancolose Che cosa che è successo Ovviamente Pensavo male Quello lì Fratellina È stato portato via E poi scompassato È morto Cioè Morto Da te se sei davvero morto Eh Io non mi fido Qui sono i cattivi Siamo attenti Ok Ok Già sono che siamo No Inumana E che cosa E noi andiamo Dall'altra parte Giusto Oddio 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 Si è possibile che Uno solo Ne sono due Non possiamo attaccare Le spalle Magari O le lampade Eh sì Vediamo un po' Se riusciamo a evitarle Ok Ci sono un po' Mopendo mano Però stare attenti A queste cose Oh che Monellis Ok Ci abbiamo fatto Incredibile Troppo Incredibile Troppe guardie Lì davanti Raggiunge il parco Diceva Incontra Tiny Dancer Diceva Stupida 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 Pensa Kamala Pensa Un posto dove Non ti troveranno Le fogne Spero che non sappiano Nuotare Ah che schifo Le certole Delle fogne Arrivo Oh no Questo fa ancora Più schifo Lo som Pensa 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 Grazie a tutti Oh no, si stanno aprendo la strada Allora scendete là sotto, su Sto per avere compagnia Avertitemi non appena la vedete La I.M. ha degli umani che mi stanno cercando E che possono teletrasportarsi Via libera, pare Ah bene, sei sveglia Sono dispiaciuto I Sintoidi stavano solamente seguendo i protocolli di sicurezza Rubare informazioni riservate è un crimine grave Monica, dalle tregua Ehi, che succede? Dove mi state portando? In un posto più sicuro Perdonami So di non essere come la mia controparte olografica Ma è un bel trucco per gli azionisti Dottor Tarleton In persona Perché hai violato i nostri server? Io non ho rubato niente E allora cosa cercavi? La cura, forse? Kamala Lo scopo dell'I.M. è soltanto quello di liberarci dalla nostra dipendenza dai potenti Un potere soggettivo Un potere illimitato e pericoloso Direi che è letale Lei, Dei, ne è un chiaro esempio Tu sei fortunata ad essere viva Ma con la tecnologia Potremmo rimediare ai torti subiti Così potremo restituirti una vita normale Ehi, ho solo indovinato una password, ok? Io non pensavo di accedere Lei è chiaramente violenta La sua infezione sta peggiorando Cosa? Non volevo far male a nessuno Certo che no Ma se dovessi perdere il controllo un'altra volta Che cosa succederà se tu Farai del male a qualcuno che ami? Perfino gli Avengers soffrono per la loro arroganza Ehi, tu eri lì Cioè, quando Kappa è morto Ehi, tu eri presente Sì Per fortuna Monica mi ha trovato sul ponte La sua formula rigenerativa mi ha salvato Credimi, Kamala È per il tuo bene, ok? Lascia che la IM ti aiuti Correrò ai miei rischi Dannazione, George Prendetela Subito Brava Kamala Ti sei appena rivelata come inumana Stupida Che cosa pensavi, eh? Di unirti alla resistenza Di diventare un'eroina Se tornassi a casa Ami e Abu verrebbero puniti per avermi nascosta È un vero disastro Aiuto La vecchia base Shin La resistenza saprà cosa fare Ah, merda Grazie, ma no Non posso più nascondermi Devo lasciare la città Non posso più nascondermi Non posso più nascondermi Sturgency Scrita Non tanpa Gio Si ¿La Mi C'est Mi 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 Beccati questo! Non scappare! Kamala Khan, fermati! Non credo proprio! Salta, 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 salta! Ma mi sto aiutando! Non mi fermerò a scoprirlo! Ah sì! Bene, sono riusciti a scappare! Che succede? Ancora ci fermano! E vabbè! Ma se qua ci serve oppure no? Non direi! Oh mio Dio! Ma che sono questi speciali? Dovrò fuggire dalla città con la forza! Ok! Proviamoci! Volete i poteri? D'accordo! Da cosa l'avete capito? Sono granate quelle! No! 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 Ok! Sembra che è davvero una storia affascinante, piacevole, a suo dire! Anche, visto come il dottor Tato, poi lui è stato infetto in qualche modo, e la sua amica dottoressa lo sta aiutando! La... Però me ne so metto due, sono molto... Ok! Batte il cinque! Dai! Uh! Bell'attacco! Mi piace! E arrivano altri! Ok! Va col mirino! C'è qualcun altro? Vuole combattere contro di me? Ah! Ciao tizio! Comunque vende bellissimo! Mi piace! Eeeh! Sta arrivando qualcuno! Arriva qualcuno! Mi viene a regalare la testa ora! Sviga! Ma state zitto! Sì! Dottorino! Oh! Evito! 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 Dai così! Dai Kamala! Resisti! Oddio! Vanno pure forti questi! Batte il cinque! Mossa eroica! Com'è? Ok! Perfetto! Direi che ci abbiamo fatta! E dai Nakia, coprimi! Di che sono al ritiro con te! Addio, Jersey! Soggetto 1102, riesce a clonarsi quasi perfettamente, tranne una leggera variazione cromatica negli occhi! Le cellule si separano partendo dal centro, creando due individui! Ah! È proprio come una planaria, ma umana! Esatto! E mantiene tutti i ricordi del soggetto originale! 0925, è capace di creare potenti raffiche di energia, e ne abbiamo diversi con abilità basate sul fuoco! Stiamo assemblando un arsenale! Potere programmabile sotto il nostro controllo! Basta, eroi! Basta sbagli! È ora di un'altra dose! Io sto bene! Sei stato in coma per sei mesi! Poco fa non riuscivi a trattenere la dose! Ancora poche dosi della mia formula, e il trattamento sarà completo! Accendono ancora dei ceri alla base di quella statua! Vorrei poterla distruggere! Ignorala! Perché far credere al pubblico che temi ancora gli Avengers? Ci penseranno i miei uomini! Dobbiamo lanciare gli adattoidi! Hai ragione! Questa versione è un po' più... Potente! È stabilizzata? Quasi! Incredibile! Incredibile! Il sia del naso! Prendere il diverso!